Ecco, in questo brano noi abbiamo inclusa la prima lettura, perché infatti il testo cita il profeta Isaia e la prima lettura logicamente ci fa ascoltare il contesto di questa citazione, nel capitolo ottavo, alla fine del capitolo ottavo, all'inizio del capitolo nonno del profeta Isaia. Si parla di un popolo che abita nelle tenebre e che vede una grande luce. Il testo continua in Isaia fino a far riferimento a un momento in cui è stato spezzato il gioco che opprimeva il popolo. Il bastone del suo aguzzino è stato spezzato come nel giorno di Madian. Ecco, a cosa fa riferimento? A una storia che è la storia di un piccolo, di un giudice che è Gedeone, il quale vincerà contro i Madianiti con un piccolissimo numero di soldati, solamente 300, contro migliaia di nemici. Perché? Perché userà la luce, userà la luce nella notte, userà degli strani arnesi, accenderà delle fiaccole, emetterà dei suoni, romperà delle brocche. Una battaglia non convenzionale. Ecco che veniamo al Signore Gesù. Il quale, quando c'è il momento drammatico dell'arresto di Giovanni Battista, capisce che è il momento della sua missione. Giovanni si ferma, allora lui parte. Va nella Galilea. Va a Cafarnao, sulla riva del mare. E, infatti, Cafarnao è la città più importante su una certa ben precisa via che, appunto, viene citata nel testo evangelico che ricorda, appunto, il testo di Isaia, la via del mare. La via del mare era una via molto importante, una via commerciale che portava dal nord al sud e anche dall'est verso l'ovest per arrivare verso il Mediterraneo e che passava per questo lago, il lago di Tiberiade, e Cafarnao era la città che stava proprio lì. E questo posto, quindi, è un crocevia. Che cos'è la Galilea? La Galilea è il posto dove ci sono tanti tipi di popolazioni, cioè è un luogo misto, non è la pura Giudea, la tradizionale Giudea. È una zona limitrofa, è una periferia, un luogo dove si è a contatto con altri. Curiosamente, la storia della salvezza non partirà da un luogo di purezza, da un luogo di perfezione, non partirà da un luogo asettico, igienico, tranquillo, sicuro, ma dalla confusione di un luogo dove ci sono tanti pagani, ci sono tante persone che passano, tanta debolezza, tanta poca obbedienza alla legge. È la Galilea delle Genti, è un circondario la Galilea, che implica un confinamento con altre nazioni, con altre realtà. Lì c'era De Capoli, ovvero sia il luogo dove ci sono dieci città che sono tutte pagane, ci sono le città di cultura ellenistica, c'era Sepphoris di vicino, che era una splendida città di cultura greca. Insomma, è questo il posto. Qui c'è la tenebra, è questo il punto di partenza del Signore. Lui non inizia entrando dalle cose già a posto, ma dalle cose rotte, dalle cose messe male, dalle cose confuse, dalle nostre tenebre. Siamo all'inizio della missione di Gesù, da dove inizierà? Se è fermato Giovanni Battista, allora dobbiamo cominciare. E lui comincia dallo scantinato, comincia dalla zona meno presentabile, comincia da questa zona pure molto poco citata. Nelle scritture è andato a pescare, questa citazione di Isaia, è il luogo appunto del popolo che cammina nelle tenebre. Lì si camminava. E si camminava in una sorta di sincretismo, di confusione, di mancanza di purismo giudaico. Ecco, Gesù chiama questo tipo di persone qua. Chiama gente che porta avanti un'esistenza in una zona di periferia. Quanto può piacere al nostro Santo Padre questo tipo di tematica? Certamente, perché quello è il luogo della chiamata. Quello è il luogo in cui comparirà splendidamente la chiamata di Pietro, di Andrea, di Giovanni, di Giacomo. Chiamati dove? Chiamati mentre stanno in sinagoga a mani giunte a pregare? Buonin buonini? No. Chiamati mentre stanno lavorando, mentre stanno nel pieno della loro compotenza, lì dove sembrerebbe che Dio non c'entra niente. Sta proprio lì che Dio li va a chiamare. È lì che li stana, li trova. Lui sta predicando. Convertitevi perché il Regno del Cielo è vicino. È vicino a chi? È vicino a gente che sta in un luogo che è lontano dal Tempio. È vicino proprio a quelli che sembrerebbero proprio i meno adatti. È proprio qui la sorpresa che il Signore Gesù è disceso, si è incarnato e non ha preso una condizione che pone chissà che prerogative che dobbiamo noi poter avere. No. Ci prende nel momento, se volete, più profano, lontano. È lì che il Regno dei Cieli è vicino. E non è vicino perché noi siamo vicini a Lui, ma perché Lui è vicino a noi. Perché Lui è venuto. È Gesù che è venuto in Galilea. È Gesù che è sceso a Cafarno. È Gesù che si è messo sulla via del mare. È Lui che chiama chi sta intresciato, confuso, impastato con la vita ordinaria. È Lui che ci chiama proprio lì. Noi abbiamo da questo Vangelo una notizia che non c'è luogo dove Dio non ci possa trovare. La tenebra è un luogo dove il Signore Gesù Cristo ci può venire a stanare. In fondo, questa è prefigurazione di quella che sarà la missione vera e propria, andare giù nella tenebra più profonda dell'uomo. I suoi inferi. scendere giù nella morte dell'uomo e lì prenderlo per mano e chiamarlo. Non guardiamo a noi stessi per credere che siamo chiamati. Guardiamo a Lui che ci chiama. Non guardiamo alla nostra capacità. Guardiamo alla Sua potenza. È Lui che sa trasformare la tenebra in luce.